Ciao a tutti qui da Switching Music, NBA 2K15, NBA 2K15, stagione il mio giocatore. Allora, non siamo stati scelti al draft, ma contratto da 10 giorni con i buoni Minnesota Timberwolves. Quest'odio siamo in quei di Detroit, ovviamente non parto il quintetto perché faccio schifo, però vabbè. Adesso smuliamo, timone entrata in campo. Ok, è entrato come primaker, devo marcare Brandon James. E' giusto, via. Numero 3, volevo l'8 ma mi dover 3, mi posso fumare gli spogli. Che palla subito, assist, mamma, dietro la schiena, che spettacolo, subito. Difesa, bel casino. Portano un blocco, vettio. Donna, se ne va, gran palla, altro assist. Mamma mia, esce dalla pantina, un micro-ondi, due assist subito, 20-14 di 90. Abbiamo un record di squadra, a quanto ho visto, in quanto imbarzante, però vabbè, se ne frega, l'importante è che mi facciano giocare. Ma che è un po' di solo? C'è un po' di valutazione, che pristezza. Mi dai sta palla per piacere? No, c'è un blocco. Che schifo di passaggio. In base, un gioco fermo, buona lì, fallo e giocato, tutti e ritorno. Vai al primo, ovviamente. Detrazione, fuori. 22-18 ancora. Dovevo marcare. DJ. Dai, oh, vai al gioco. Vai al gioco. Vai tagliare fuori, ma non serve a niente, perché... Caron Butter, la piazza, 22-20. Dai, ma oh, si canta questa palla. Gioco di peco di... Ancora gran palla. Madonna. Tre assist. Super. Super. Per il resto ancora. Gioco resti, ma tre assist. Non male, non male. Vado. Vado. Scusa schiacciata, e andiamo. 2-6-2-0. 1-24 alla fine del primo quarto. Inesota avanti, molto bene. Vado. E Augustine kicks to Smith. Mano a camera. Mano a camera. Ah, dai, oh! Tell you what, he's not an easy guy to stop when he's got his sight on the rim. Troppo facile, troppo facile. Picarola, con ieri, Mo Williams, Pejkovic, uno libero. Ancora palla per Williams, dovrebbe tirare, me la ritorna, buona idea, ancora piccarò, per Mottia, abbiamo sbaglio da 3, parte con il piede di Troy, fermato, benissimo, buona lì, non perde tutto, oh merda, merda, Williams, faccio vedere, ancora dentro per Pecovi, a lavoro, bravo in balzo offensivo, è canestro, è quel primo canestro, con 6-5 a giocare al primo quarto, non va, 2-8-2-4 a fine primo quarto, buona prestazione con 2.3 assist per Fitchy Music, primo quarto, vediamo se il buon coach ci mette in campo, Ah, cazzo via, cazzo via, smuliamo, andiamo a percarlo un buffer, con 1.44 a giocare nel secondo quarto, cioè, in quarto sono stato 6 ultimi, penso a sé, Grappala per Pecovi, schiacciata, e andiamo, c'è, Don Tono a questa partita, con questo incanto, mi lasciano un panchino, penso a te, quello che spero è che mi prendano magari i Lakers, dopo questo contratto a 10 giorni, e lì ci gasiamo, via, Dammela, che spa, bello dentro con la moto, 2 punti in entrata, la zingarata di Fitchy Music, 4 punti, 4 assist, un ribalco, partita a mai uscola, quale è un attacco, molto bene, peccato che mentre ero fuori hanno pensato bene di prendere 15, i miei compagni di squadra siamo a 44-60, Allora, devo recuperare, vieni dai, passa, ma che è un giusto da fare, eccoci, 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 eccoci. Non c'è, oh, non c'è, oh. Mi c'è la molla, sto qua, è che vi, martin, e c'è i timberwolves, due punti, buona lì, dai. Si devo marcare Cardo e Pope Ferma Drummond Buona Si Pallicare Dai Dai Meno 16 Non barra troppo Qui ne giocano Il trio libero dovrebbe andare Per Will Byron Non c'è 9 secondi e 8 A caso Va bene Dov'ho fatto tirare me però Dai ultimo tiro Mi merito 9 8 Piccaroy Grazie Ah è sbaglia Peccato Finisce così primo tempo 46 a 63 Per i Detroit Pistons Eccoci tornati ragazzi Inizio terzo quarto Sempre 46 a 63 Per Detroit Ovviamente siamo in panchina Perché Incompetente Vabbè Simuliamo Su sveglia E' il mio momento Let's go Let's go guys Cari 60 a 83 Ma ogni volta che sono fuori Prendiamo un tango Non si può L'importante è che io faccio statistiche Che magari qualcuno mi prende Però è molto bello andare a giocare ai Lakers E portare al Mamba L'ultimo titolo della stagione Sarà il mio sogno Della mia carriera Ah ho preso il bacio Bisogna averci segnato Che figo Via Bella pala Corribure non tira Mannanza lì Chiama l'isolamento Se la vuole giocare Contro Kaisinger Dentro con la moto Brutazione Palla per Wiggins Deve inventare il tiro Bello Che è next Entro almeno 21 Bella merda Vabbè Rimesso il mio giotto dal lato Non siamo ancora morti C'è ancora un quarto E spiccioli da giocare Si so che devo mancare di Jay Augustin Dai Su Oh Passamela Bello dentro Subisce il fallo Lunetta per 2-3 libri Su C-Music Buona buona lì È un progressivo Buono il primo Solo rete 5 punti per lui E meno 20 Dai E noi andiamo a avere sotto i venti Di vantaggio Con un po' di fortuna 2 su 2 liberi 6 punti 4 assi 2 ribassi C'è l'ipende Non farlo tirare Non farlo tirare Ecco il prendere in base Ma puoi passare Ancora gran palla Canestro e fallo di Pekovic Che asse Switching Music Pekovic 5 assi E 6 punti Il ritmo da doppia a doppia Se riuscite a giocare un po' di più Vabbè Gioco da 3 punti di Pekovic 6-9-8-7 Buona difesa Via a contropiede Via a contropiede Eccomi qua Passami Uh non volevo passarla là Vai che la sparo da 3 Bang Kaboom 9 punti 12-4 di parte aria Ascensione Meno 15 Non è finita Dai passami Se non caldo come una stufa Ancora per Mo Spara Ancora Jeff Step Jeff Step Finta E' sottilo Va dentro Ancora per Pekovic Brabara Altro assist Madonna Altro assist Per Switching Music 9.6 assist Dai un po' di dispera Meno mai 32 secondi Al fine del terzo quarto Meno 15 Non è ancora finita Spero che adesso Ovviamente mi levano Ma spero che Rientrando Non sarò sotto Di 25 Di nuovo Come prima Sarà una bella cosa Dai Piccherò il classico Adesso No 2 per 1 Buona lì Splash 11 punti Buonissima partita Per tutti i miei 11 Se non mi tengono Sono degli stronzi Questi Dirla così Proprio 11 punti Stai assist Molto bene Che sta facendo Questo Oh Non fa tira Carombardo Ma un Che segna 9 secondi Direi che me lo merito Tutto Questo ultimo Tiro di quarto Passamela E la perde Incredibile Dai 7 6 9 3 Non è Troppo male Questa Siamo ancora Recuperare E sono in panchina Ovviamente Simuliamo Era ora Sì Mi pare anche a me Che era ora 87 a 100 Dai Abbiamo recuperato Un paio di punticini 8 e 30 Da giocare Nel quarto quarto Ci siamo Sempre sul pezzo Mi dai Sta palla Che sono io Il tre mecca Per piacere Guarda La terza No Non puoi passarmela Tranquillo Tengo tutti io Molto bene Meno 15 Altro fallo Guadagnato Da Swift Music Stiamo Di fare 2 su 2 Questa volta No Fattade Ecco Sbagliato il primo Ovviamente E' buono il secondo Solo l'orette Devo migliorare i tiri liberi Perché non mi pio Fa schifo Sbagliare i tiri liberi No Non fatti parte Buono Però ho sbagliato Dai Partiamo con questo Quattro piede Farca di marting Là Buono Lisegna Bravo Assist Vai Meno 14 Dai dai ragazzi Dai ragazzi Mai domi Pesat Ma Pesat Ma Meno 14 Altro ribazzo Per 6 Cimiosi Madonna E bei canestro Da sotto 15 punti Attenzione Ecco Stagionale E di carriera Per Switching Music 15 punti E a record Direi anche 7 assist Grande Campa partita Stasera Peccato solo per il risultato Altro Sempre fallo Assuro 109 93 Che disastro Passi Stenzione Si avvicina la doppia doppia Se punta di prima Doppia doppia in carriera Per Switching Music Non sarebbe male Anzi Sarebbe una gran cosa Condita anche da tre rimbalzi 2.43 da giocare Palla per Mix Dai non prendiamo canestro ragazzi Non prendiamo canestro No Non fammi canestro tu almeno Fermalo Devo Devo Fermalo Sì Cosa pensi di giocare in me Sarebbe la storia del cazzo E lui E prendere in balzo Attenzione Parte il contropiede Per Fulmine Switching Music Palla per Brewer Spara Sei lì per quello Sparo io Dai lontanissime Sbaglia Cazzo e cazzo Tiro un po' ignorante Oh 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 Ancora Bravo Da lontanissime Spatta via tutti 2 minuti di garbage time Utili solo per fare l'ultimo assist E raggiungere una Super 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 Doppia doppia Eccola qui Forza già La prima azione E sbaglia Kevin Martin Oh Grande stoppata di Kevin Martin Attenzione Per Brewer Solo da 3 E il suo tiro Bang Assist di Switching Music Doppia doppia Andiamo Meno 14 Ma c'è di cosa esultare 15 punti 10 atti 4 rimbalzi Che partita Che partita Magistrale Per Switching Music Signore Finisce 120 a 102 Perdono i Minnesota Timberwolves Però grande Grande prestazione Per Switching Music Se non ricordo male 15 punti 10 assist 4 rimbalzi E Forse anche una stoppata E direi Poche poche palle perse Una O due Massimo Ah Zero stoppate 5 su 9 dal campo Molto bene Guadagnato 441 Cose lì Soldi Non c'è nessuna intervista A fine partita Bene Ci lasciamo così E ci vediamo In questi giorni Per il prossimo episodio Della My Career On NBA 2K15 Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Sì Grazie.